Oggi facciamo la torta alle noci, pasta frolla, fatta con burro, farina, uova, limone grattugiato e zucchero. Prendiamo dei piccoli impasti e iniziamo a schiacciare sul fondo della torta. Dopo aver fatto un volto per bene un po' alto, iniziamo a mettere le noci, un po' sparse. Adesso prendo la nostra marmellata di pugna che facciamo noi e mettiamo una parte sul fondo. Adesso ricopriamo con un po' di impasto prendendo dei piccoli pizzettini, lo allargate con le mani. Deve essere scomposto sopra, come vedete ho iniziato a raggera. Con le noci rimaste le mettiamo sopra, le allargiamo sempre un po' sparse. Pronta per andare in forno. Sforniamo la torta di noci con la marmellata di pugna. Sforniamo la torta di noci con la marmellata di pugna.